Il giorno e la storia Oggi è il 22 luglio 1944 Bretton Woods Istituiti Banca Mondiale e Fondo Monetario 2001 Muore Indro Montanelli 1968 Muore Giovannino Guareschi Commenta il fatto del giorno Sandro Neri Direttore del Il Giorno Oggi parliamo della strage di Gioia Tauro La cosiddetta strage negata 22 luglio 1944 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti